Auguri innanzitutto, da qualche giorno lei è il primo cittadino di Casalvelino, un impegno però che continua perché lei da tantissimi anni che è in prima linea per questo comune. Sì, ormai sono 15 anni per cui si tratta un po' di una prosecuzione di un cammino che avevamo già intrapreso come gruppo e in effetti si tratta di dare senso a quello che abbiamo detto in campagna elettorale, continuità con un percorso che Casalvelino aveva già da tempo iniziato e che Casalvelino ha scelto di continuare. Oltre 600 voti di scarto rispetto all'altro candidato, una vittoria però davvero raggiunta con un massimo risultato. Sì, è stato un risultato che ci ha onorato, ci ha soddisfatto da tutti i punti di vista, siamo risultati vittoriosi in tutte le frazioni del comune, quindi abbiamo ottenuto e avuto delle risposte dalla cittadinanza in tutte le frazioni del comune. È evidente che siamo in una fase particolare, era alla fine di un ciclo perché si è chiuso un ciclo amministrativo che è stato portato avanti all'insegna della figura del sindaco Domenico Giordano. Ed è evidente che con il giro di Boa molto spesso si verificano degli avvicendamenti, si verificano dei passaggi anche abbastanza traumatici da un'amministrazione all'altra. Nel nostro caso invece, al di là di ogni pronostico, perché in realtà generalmente detto in parole povere, dopo dieci anni si va a casa, ecco noi nonostante questo, nonostante il passaggio dei dieci anni, nonostante tutto, anzi a questo punto devo dire grazie a tutto quello che abbiamo fatto siamo rimasti. Cosa vi ha premiato secondo voi? Io credo l'affidabilità, l'affidabilità e la serietà. Io sono sicura che sia quello il dato, al di là di quello che è stato un po' detto in campagna elettorale, che è un aspetto peraltro sul quale non voglio ritornare perché la campagna elettorale è chiusa e adesso bisogna amministrare e bisogna amministrare nell'interesse di tutta la comunità di Casalvelino indistintamente. Però se un'analisi mi viene chiesta, io sono certa che è la serietà quella che è risultato l'elemento di rimente per la scelta da parte della popolazione. Perché ai cittadini di Casalvelino che hanno un passato glorioso, hanno un passato di consapevolezza di quelli che sono gli amministratori e la qualità degli amministratori, è piaciuta la nostra precisione, la nostra puntualità nel descrivere, nel rappresentare quello che abbiamo fatto. Ritengo la nostra sobrietà nel saper mettere in evidenza i nostri meriti e ritengo anche una pulizia nel parlare dell'avversario, nel rappresentare non quelli che erano i demeriti di chi c'era dall'altra parte, ma soltanto i meriti di chi stava da questa parte. Nella squadra troviamo anche il sindaco Sciente Giordano che è stato poi tra i candidati al Consiglio che ha ricevuto più voti, che si affiancherà in questa amministrazione. Indubbiamente, noi non abbiamo ancora varato la Giunta, ma sicuramente mi affancherà. È un discorso che abbiamo portato avanti insieme e che abbiamo sempre portato avanti, perché al di là di quelli che sono le giuste e normali valutazioni che si fanno insieme, esiste un rapporto di fiducia, di lealissima collaborazione, per cui è evidente che mi affiancherà in questa esperienza, perché Domenico è un po' un paradigma rispetto a tutta l'attività amministrativa posta in essere qui a Casalvelino. Per cui effettivamente non sono tra quegli amministratori che ritiene di doversi privare dei collaboratori più validi, anzi ritengo che in questo caso sia così e credo che Domenico possa ancora dare tantissimo. Lui ha lavorato tantissimo in campagna elettorale, si è esposto anche in prima persona, al di là di quello che poteva essere il suo impegno, perché poteva anche essere meno generoso in questa campagna elettorale, nella quale si è speso per il gruppo e a favore di tutto il gruppo, cercando di non ledere la posizione di nessuno, perché ha cercato di muoversi, nonostante la sua grande popolarità, non ledendo la posizione di alcuno. E ha avuto un riscontro notevole, che sicuramente non rispecchia quello che è il grado di popolarità che ha tra la popolazione e che è frutto anche di quell'accortezza che lui ha avuto nel muoversi e nel chiedere il consenso, che movimento che ha fatto, ripeto, nell'interesse del gruppo piuttosto che nell'interesse della sua persona esclusivamente. Per lei è stata una campagna elettorale particolarmente impegnativa, in corsa per la poltrona di primo cittadino, ma l'abbiamo vista impegnata in prima persona, anche in questa competizione regionale. Oltre 12.000 voti, un risultato davvero sorprendente, forse anche inaspettato, che al di là del fatto che poi non è riuscita ad entrare in Consiglio regionale, comunque un risultato di cui andare fiero, orgogliosi. Sicuramente. Io sono contenta, sono molto orgogliosa del fatto che la cittadinanza del Cilento, ma anche altri territori, abbiano individuato in me una persona nella quale riporre la loro fiducia. In questo particolare momento, nel quale è un po' difficile chiedere il voto, io l'ho detto in continuazione in campagna elettorale, c'è uno scollamento tra le istituzioni e la base, l'elettorato, effettivamente ricostruire questo rapporto di fiducia è stato un po' faticoso, è stato un po' articolato come percorso. Però ci siamo riusciti, ci siamo riusciti chiaramente perché noi siamo andati in prosecuzione rispetto ad un cammino che era già tracciato e che aveva un passato importantissimo, quello di Antonio Valiante. Quindi in questo siamo stati agevolati, oltre che dall'impegno dello stesso Antonio Valiante, anche da quello che è stato un po' lo stile che lui ha impresso alla nostra campagna elettorale, per la quale, devo dire, senza voler essere eccessivamente autoreferenziale, abbiamo avuto anche degli apprezzamenti anche da parte degli altri candidati, anche da parte di altre persone impegnate nella competizione, perché abbiamo fatto il nostro percorso in maniera seria, in maniera chiara e abbiamo avuto i risultati, la gente ci ha premiato. Il risultato ottenuto, si sente di ringraziare qualcuno in modo particolare in questo momento, al di là delle tantissime persone che hanno messo la crocetta sul suo nome sia a livello comunale che regionale? Io, sì, ho ringraziato un po' tutti, chiaramente, come dicevo, ho ringraziato Antonio Valiante, ho ringraziato Simone Valiante, perché si sono spesi, si sono spesi tantissimo, tanto hanno dato al nostro territorio e tanto possono ancora dare al nostro territorio, al di là dell'impegno in politica attivamente. Questo io non lo dico da cittadina, lo dico anche da amministratore, da amministratore che si è rapportata con i problemi, per cui al di là di quello che può essere la chiacchiera fatta dal cittadino, da parte della persona, perché poi a seconda del fatto che una persona possa avere o non aver avuto da un politico, ne parla bene o ne parla male. Ecco, io ne parlo da amministratore, cerco di assumere questo tipo di veste e da amministratore devo dire che sono persone che hanno un quadro chiaro, lucido della politica, di quelli che sono i percorsi anche che il nostro territorio deve affrontare. Quindi da questo punto di vista mi sento di ringraziarli. Chiaramente devo ringraziare anche i miei compagni di percorso a livello comunale, perché mi hanno consentito di fare questo importante percorso a livello regionale. Se non fossero stati così pronti, così coesi, non sarei riuscita. E chiaramente tutte le persone che mi sono state vicine. È scontato dire che ringrazio anche la mia famiglia, tra tutte queste persone. Comunque ringrazio gli amici, i familiari, tutti coloro che mi sono stati vicini. Oggi siamo al 4 giugno, lei si insedia in un momento particolarmente caldo, c'è la stagione estiva, il Casalvelino è tra le località balneari del Cilento più apprezzate. Non è un lavoro che inizia, ma come dicevamo prima, si continua. Però è un momento particolarmente importante per Casalvelino. Sì, votare il 31 maggio per una località costiera, no, non è una scelta facile. Non è una scelta nemmeno facile da gestire. Per cui effettivamente ci siamo trovati con tutta una serie di emergenze. Devo dire che il sindaco Domenico Giordano, il sindaco uscente Domenico Giordano, aveva già predisposto tutto, avevamo già predisposto tutto per evitare di essere, di doverci sobbarcare un lavoro eccezionale. E questo lo avevamo fatto anche nel rispetto di quello che era il momento elettorale, al di là dell'esito. Quindi lo si fa nella consapevolezza che appunto si chiude un ciclo. E però devo dire che poi ci sono comunque dei passaggi obbligati che sono ad appannaggio della nuova amministrazione subentrante che stiamo cercando di sbrigare rapidamente. Per cui penso che entro lunedì saremo operativi al 100%. Anche se, ripeto, molte cose proseguono sull'onda e nel solco della continuità di un'impostazione che era stata data. Auguri. Grazie, grazie di cuore. Grazie per tutto e grazie per l'attenzione che avete avuto anche rispetto a questi miei passaggi elettorali. Grazie. 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 Grazie.